eccoci qua con questo nuovo volume di star wars una nuova speranza o meglio gli eroi del fumetto di panorama collezione uscita nel 2007 abbiamo visto già i primi tre volumi episodio 1 episodio 2 ed episodio 3 non poteva arrivare episodio 4 star wars una nuova speranza andiamo a vedere questo volume vi ricordo che praticamente sono le trapposizioni dei film a fumetti nuove speranze per il cinema star wars story il film di pierre giuseppe fenzi che abbiamo un'introduzione un po' del primo barra quarto film il mondo degli adepti di massimiliano broyer e qua cominciamo con episodio 4 sarei curioso di capire quando è stata pubblicata effettivamente la storia perché queste sono praticamente delle ristampe delle riproposizioni vediamo se più avanti la troveremo e beh la scena iniziale penso che tutti se la ricordano no l'episodio 4 star destroyer che arriva con l'arrivo di dark fener dark weather come volete chiamarlo guardate che bellissima scena anche i disegni tutto sommato sono fatti molto bene pensavo di trovare disegni un po più retro però sono abbastanza stile anni 90 più o meno passatemi il termine i nostri c3 p o r2 che arrivano su tattoo in volevo vedere un po come venivano chiamati vediamo un po perché nei film no qua viene chiamato r2 quindi hanno tenuto i nomi originali o meglio i nomi che dopo anche noi abbiamo tenuto originali nella sequel quindi non è più c1 p8 e d2 d2 i java che rapiscono il buon r2 i star trooper che sono sui tatuini alla caccia dei droidi la fattoria dei lars che non lo vediamo più di tanto ma vediamo qua c3 p o che viene reclutato preso assunto come volete chiamarlo da owen lars andiamo avanti qua abbiamo un po già l'attacco di tasca anche r2 e fugge per cercare obiwan guardate obiwan che arriva vediamo una battuta che dice ma certo che lo conosco sono io non ho più usato quel nome prima che tu nascessi oddio qua effettivamente veramente non mi ricordo di avere mai avuto un droide vabbè sappiamo che obiwan è anziano e quindi a memoria fa quello che fa vediamo qua come ha fatto l'adattamento generale che no più anni fa ha servito mio padre nella guerra dei cloni nella guerra dei cloni attenzione nella guerra dei cloni finalmente a guerra dei cloni nodi cuoti più grande mistero italiano di star wars ma erano altri anni fener che comincia a stritolare qualcuno guardate la posizione di lei la molto sensuale non voglio indicare niente ma indico molto non era così nel film però è un po il nostro desiderio che sarei curioso di vedere quando faremo il sesto libro il tono drogedi qua diciamo la scena un po aggiunta nella versione quella degli anni 90 che lucas aveva aggiunto scena i cgi che tanti odiano io apprezzo è un aggiornamento quindi ci sta un po di csi un po più ambienti fighi anche questi droide che appaiono andiamo avanti il taglio del braccio guardate il taglio del braccio dei due della taverna volevo vedere se è che fare questa analisi non ha senso no non c'è la scena che i droidi vengono buttati fuori l'incontro tra giuba e han solo il primo incontro chi spara per primo qua sembrerebbe che grido spara per primo e han risponde poi vabbè abbiamo tantamila versione per tutti i gusti tarkin jabba abbiamo il jabba lumacone che appare la fuga da tatooine è la prima apparizione della morte nera la stazione spaziale che sembrava una luna abbiamo il nostro tarkin che minaccia la nostra leila tanto che faranno esplodere un certo pianetino ho visto una cosa ma no ok mi sbagliavo però immagini e disegni sono molto belli sono molto molto belli andiamo avanti qua abbiamo un po' un inseguimento del millennium falcon che ha scoperto la morte nera e che entrerà il classico in boscata nascondiglio per entrare nella morte nera i nostri eroi travestiti da star trooper il famosa contenitore dei rifiuti vediamo se c'è qualche disegno in più sulla creatura no nel film appare solo un occhio poi negli anni di giocato abbiamo scoperto un po' come è fatta quella creatura nel compattatore obi wan che abbassa gli scudi famosa scena del ponte guardate il bacio tra leila e luke che non sanno di essere fratelli e sorella il mitico scontro tra dark fener e il nostro obi wan kenobi che poi non è più il primo scontro l'abbiamo visto anche nella serie tv di obi wan che ha fatto un po' discutere però va bene così la morte di obi wan la disperazione di luke e la fuga della morte nera guardate anche i jube che bello disegnato ha fatto molto bene la fuga mi pare che boba fett non appariva nel fumetto qua vediamo forse l'ho dimenticato vediamo ma è molto risicato vediamo quando c'è jaba se c'è boba fett no qua 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 eccolo qua si eccolo qua c'è il boba fett di spalle come nel film molto bene andiamo avanti abbiamo un po' sulla scena su javin assalto alla morte nera dei ribelli il nostro han che ha fatto il suo lavoro ha preso l'incasso e se ne va il famoso lancio degli ala x guardate anche questa scena che tutti in squadra l'attacco alla morte nera belli disegni veramente pensavo di aver disegni molto più invecchiati invece sono quasi a livello degli altri dei tre volumi quindi tanto tanto di cappello qua il famoso attacco qua dark fane entra in campo quindi andrà lui a sconfigge quel pilota misterioso che poi piano piano scoprirà che qualcosa lo legherà ma la storia praticamente la sanno anche i muri e qua arriviamo un po' al colpo in tutti i sensi finale di luke luke usa la forza dove eccolo qua il famoso buco che ha fatto discutere anche questo poi grazie a guano hanno risolto più o meno l'esplosione della morta nera con dark fener che dovrebbe quando lo vediamo partire balda lato di qua spalla lato di la con la sua caccia il premiazione la festa come si può dire la premiazione dai andiamo le medaglie giube non ha la medaglia quindi sono incoerenti cosa anche questa discussa negli anni vi ricordo che tra l'altro che giubbano avesse ricevuto la medaglia questa cosa negli anni ce la siamo portata avanti finché in un puntato se non ricordo l'anno di degli mtv awards movie awards le sonde premiazioni un programma di stile oscar di mtv in una serata in un anno è arrivato giube ma effettivamente i costumi di giube interpretato sempre vestito il dato dal buon attore di giube il buon peter che lì c'è la nostra leila che premerà giube gli darà la medaglia recuperatela su il web su youtube c'è quella scena ma è bellissima quella scena perché è un riscatto volendo di giube che riceve la medaglia da carrie fisher in quel caso molto molto interessante qua abbiamo routine abbiamo una mini storia presumo che sento poche pagine che vediamo cosa narra mancano ancora parecchi anni al giorno in cui la nuova speranza giungerà quindi un prequel nella galassia ma c'è già chi ha affrontato e fischiare tutti i nomi della libertà questa non me la ricordavo a forse questa scena come me la ricordo degli imperiali abbiamo un giube presumo sì non solo quindi diciamo c'è un'avventura un po prima di episodio 4 presumo anche un po prima di andor molto brevissima vedete che è già finito quindi proprio una un incontro del buon an solo ecco qua vediamo le storie quindi abbiamo uno speranze per il cinema la introduzione poi abbiamo un senso of wonder l'entra introduzione mondo degli adepti un'altra introduzione e una nuova speranza del 97 quindi era stata pubblicata la storia del 97 e poi una storia del 2000 che è questa qua di star wars tiles 2 del gennaio 2000 quindi abbiamo anche questa cosa qua molto carina qua abbiamo la solito piano dell'opera quindi siamo arrivati all'episodio 4 e qua finiamo quindi ragazzoli destino dell'universo ha un nome luke skywalker dalla sceneggiatura originale il fumetto che ha dato inizio al culto di star wars questa collana era uscita ancora vi ricordo nel 2007 distribuita ai tempi da panini e soprattutto da panorama con la collana di nome gli eroi del fumetto di panorama copertina rigida è una collezione molto molto interessante naturalmente comprende i sei film prequel tre prequel tre classici per quanto riguarda secco non era ancora in programma praticamente perché siamo più o meno due anni dopo di episodio 3 e quindi non c'erano i piani per una trilogia sequel forse era meglio così scrivetelo nei commenti detto questo ragazzoni se vi è piaciuto questo video se avete domande e curiosità tutto quello che volete non fatevi problemi scrivetelo nei commenti commenti sono fatti per quello ma soprattutto se volete sopportarci e se vi è piaciuto questo video mettete un like che per voi non costa niente ma per noi è molto molto importante ci vediamo ad un prossimo video unboxing grazie veramente a tutti ciao